Sono meno di 5.000 i bambini pugliesi nella fascia di età che va da 0 a 6 anni a non essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie e a rischiare di non essere più ammessi a scuola, secondo quanto previsto dalla legge Lorenzin. La normativa nazionale ad ogni modo delega al provveditore e al dirigente scolastico l'analisi di caso per caso, perché una quota di questi bambini potrebbe essere immunodepressa o stare seguendo particolari terapie in cui le vaccinazioni sono sconsigliate. Il dato complessivo è comunque positivo se si considera che in Puglia su 200.000 soggetti circa il 95% ha fatto il vaccino esavalente e il 92% anche quello contro il morbillo. Nella provincia Bat, secondo quanto dichiarato dal direttore generale della ASLBT Fulvio delle Donne, gli adempimenti all'obbligo normativo dovrebbero raggiungere il 95% dei casi con il completamento della chiamata attiva in corso. I genitori che non sono riusciti a completare il ciclo vaccinale dei loro figli entro il 10 marzo potranno esibire la prenotazione o la richiesta delle vaccinazioni fatta presso le ASLBT ed evitare a questo modo l'esclusione scolastica. Non ci sono dati disponibili invece riguardanti la Puglia sui ragazzi fino ai 16 anni di età, anche se non vaccinati non rischiano comunque l'espulsione dalla scuola ma solo una sanzione pecuniaria.